C'è Marco Carari che dice, da un punto di vista è pilotaggio, cosa c'era di manuale rispetto a tutti gli automatismi previsti sullo shuttle? Allora, se la missione è nominale, praticamente non si pilota mai, nel senso che è tutto automatico, tutto attraverso l'autopilota, e questo sia per le fasi di lancio e di rientro, a parte l'ultima parte del volo, da quando si passa subsonico all'atterraggio, che quella è sempre stata pilotata. In orbita si inseriscono tre dati di coordinate di assetto sul computer e il tempo a cui eseguire, quindi l'autopilota ti ci porta. Però durante la fase di addestramento ci si addestra per andare e tornare completamente in manuale. A parte i primi due minuti, diciamo nella fase di propulsione, quella parte propulsiva, quella con i booster, che il veicolo sarebbe incontrollabile anche dal punto di vista manuale. Quindi tu per i primi due minuti sei alla mercè di un sistema automatico. Dopodiché invece ti addestri sia per pilotarlo durante il lancio, sia effettuare tutta la parte di rientro completamente in manuale e anche senza tante strumentazioni, perdendo una parte dei jet di controllo dell'assetto, addirittura rientrando sulla Terra solo attraverso l'uso delle superfici aerodinamiche, in cui soprattutto ad alta quota, anche se sei ad alta velocità, lo shuttle è piuttosto un barcone e quindi diventa anche abbastanza complesso determinare e controllare molto bene la traiettoria. Gli unici razzi che non puoi perdere sono quelli del controllo d'imbardata, perché lo shuttle è instabile dal punto di vista direzionale nella parte ipersonica e quindi senza quelli il pilota non riuscirebbe a mantenere il controllo. Mi ricordo esattamente addirittura le sensazioni fisiche del lancio, perché è qualcosa che ti colpisce. Innanzitutto il countdown, che normalmente uno lo vede da fuori, invece in quel momento lì ci sei dentro e le cose cambiano, perché sotto di te, diciamo sotto al sedere, come si suole dire, anche se sei visto così, hai un serbatoio che ha 5 milioni di litri di idrogeno e ossigeno liquido, che solo perché vengono a contatto, è una piccola bomba atomica lo shuttle dal lancio, e pesa circa 2.500 tonnellate a 3.500 tonnellate di spinta, quindi posso assicurare che quando si accendono i motori si sente. Poi il countdown prosegue, dove cominci, è tutto relativamente tranquillo, non c'è niente di etico, ectico come dicono gli americani, fino a circa 5 minuti prima del lancio, in cui si accendono le APU, il sistema per dare potenza idraulica, al gimbal dei motori, dei motori principali, e lì lo shuttle sembra che cominci a prendere vita, perché cominci a sentire vibrazioni, senti i rumorini, eccetera, eccetera. Poi tutto si tranquillizza, la gente comincia a parlare molto di meno a quel punto lì, e un altro punto importante sono due minuti prima del lift off, in cui fino a quel momento sei stato con il visore alzato, ti chiudi il visore, tutti i rumori vengono molto attutiti, senti solo gli altri attraverso l'interfono o la radio, e l'altro momento è circa 32 secondi prima del lift off, in cui il controllo passa dai computer di terra ai computer di bordo, quindi la sequenza di lancio è controllata dai computer di bordo, e poi quando cominci a sentire, diciamo, il meno 15 va ancora bene, va meno 10, eccetera, a meno 6 comincia la sequenza di accensione dei motori principali, che si devono accendere non tutti insieme, ma proprio in sequenza, e devono essere tutti e tre oltre il 95% di spinta per poter dare il consenso all'accensione dei booster, perché mentre i motori principali potevano essere spenti in qualunque momento, ci sono state le emissioni che li hanno spenti a meno di un secondo dal lift off, quando si accendono i booster si parte, quelli non si possono più spegnere, quindi tu per due minuti sei attaccato ai booster, a volte durante la fase di addestramento, di training, non sapevamo neanche benissimo dove stessimo andando, ma di sicuro si parte. E lì è stato uno dei momenti, diciamo, un po' più da batticuore dell'intera missione, perché abbiamo visto i tre motori principali andare ad idle, quindi accendersi, due andare al massimo e uno rimanere ad idle. E in quella configurazione non è previsto decollare, perché non riusciresti mai a raggiungere l'orbita terrestre in quella configurazione con un motore, diciamo, al minimo e due funzionanti, anche se si accendono i booster. E invece noi siamo partiti. È stata una frazione di secondo in cui ho avuto il tempo di dire, oh no, ma dico proprio a me, cioè il giorno del lancio, un motore che non funziona, adesso tra pochissimo, vedo i motori spegnersi, ci fanno scendere, devono svuotare i serbatoi, qui se ne riparla almeno tra tre settimane. Mentre pensavo questo siamo partiti. Non è previsto partire. Per i primi 20 secondi diciamo che non era ben chiaro cosa stesse succedendo. Esiste una manovra di emergenza per rientrare ma che nessuno nella storia dello shuttle ha mai avuto modo di sperimentare dal vero, molte volte in addestramento, che si chiamava RTLS, Return to Launch Site, che implica che tu te ne vai, ti lanci verso l'Atlantico in salita fino a circa 360 mila piedi, Mach 5, fuori dall'atmosfera, ti giri, i motori continuano a funzionare, quelli che funzionano, arrivi fino a velocità zero e poi a quel punto vedi giù praticamente come un sasso e poi pian piano riacceleri in direzione di Cape Canavera fino a Mach 3, ti separe dal serbatoio e dagli plani sulla pista di atterraggio. È molto complessa la manovra, anche se, come dicevo, l'avevamo sperimentata diverse volte, ma dal vero nessuno assicurava veramente che avrebbe funzionato tutto perfettamente. Poi dopo 20 secondi invece ci siamo resi conto, confrontando vari parametri, e questo la dice lunga sulla tipologia di addestramento che uno ha alla NASA, che in effetti era un doppio falso allarme. Il motore funzionava al massimo anche se l'indicazione non era quella. molti mi chiedono quanti G si sentono durante la fase di lancio. Allora, parti con circa due G, che però sono petto-schiena. Per un pilota sono molto strani, perché tutti noi siamo abituati a G positivi, invece questi sono G trasversali. è come se qualcuno ti si sedesse sopra al petto e tu fai una fatica a respirare. Questo dura per i primi diciamo due minuti, poco prima della separazione dai booster, l'accelerazione, perché il combustibile, il propellente, si è consumato, scendi a 1,1 G, ti separi dai due booster che sembrano due martellate incredibili su tutta la struttura. In questi primi due minuti hai delle vibrazioni spaventose all'interno, cioè vibra tutto, a volte fai anche quasi fatica a leggere gli strumenti. Nel momento della separazione dai booster lo chiamano electric ride, perché non senti più niente, non vibra più niente e da lì pian piano durante la traiettoria di ascesa, perché chi va a vedere come si lanciava lo shuttle, c'è una prima parte della traiettoria molto verticale, dove arrivi a circa anche qui oltre i 350.000 piedi a Mach 10, dopodiché la traiettoria tende a diventare orizzontale, addirittura anche leggermente in discesa, perché devi accelerare alla velocità orbitale, quindi a oltre Mach 25. Ecco, in quella fase lì invece l'accelerazione pian piano sempre G trasversali con una leggera componente negativa che tende ad attaccarti alle cinghie del sedile, perché tu sali rovescio con circa meno 4 gradi di angolo d'attacco, quindi tutto un po' strano per un pilota e lì invece poi pian piano cominci a accelerare, accelerare fino a raggiungere un'accelerazione trasversale di 3G che è il limite strutturale dello shuttle nei punti di ancoraggio tra la navetta vera e propria e il serbatoio esterno. A 3G i motori vengono indietro per mantenere l'accelerazione di 3G fino a circa nel nostro caso 8 minuti 28 secondi dove hai MICO cioè man engine cut off e lì quando si spengono i motori galleggi. Non sei ancora in orbita però perché sei su un'orbita che è ellittica che ha l'apogeo cioè la parte più lontana della Terra a circa 400 km di quota che era la quota che dovevamo andare noi ma il perigeo che ha circa 10 km se tu non facessi niente tu rientreresti la prima orbita perché è un'orbita che interseca di nuovo l'atmosfera quindi 20 minuti dopo il lancio quindi quando sei non molto lontano dall'apogeo devi accendere due motori medi li chiamo OMS Orbital Manoeuvring System che ti danno quell'impulso per circolarizzare l'orbita a quel punto lì sai che starai in orbita diciamo per un po' ecco questo è il punto